Buongiorno, eccomi qui con un nuovo vlog oggi volevo filmare un vlog per portarvi con me in tutto il corso della giornata perché passerò una giornata con la mia amica Ilaria quindi mi sembrava carina l'idea di passare così una giornata tra ragazze anche con voi, anche se virtualmente e prima di uscire volevo farvi vedere il mio outfit eccolo qui, indosso questo toppettino che avete già visto questa collana, anche questa qui, l'avete già vista poi dei jeans, non so se si vede, vediamo se, ok così si vede dei jeans che hanno tutti e tutti, dei piccoli qua sopra e poi delle ballerine Buongiorno! Buongiorno! Perché mi prendi solo? Perché vediamo se indovinano chi sta riprendendo ma tu gliel'hai già detto gliel'hai già detto e voi sei carina con quella collana grazie, grazie eccomi finalmente Vanessa qualcuno che la filma vedi non deve fare tutto da sola guardate che bell'outfit hanno già visto anche quello hanno già visto anche quello, sono arrivata tardi oggi giornatina carina molto mi vendicherò e filmerò anche il tuo outfit adesso Ilaria sappilo la differenza tra il mio e il tuo è che lei è pronta per andare alle Bahamas sì Ilaria adesso vi faccio vedere ciao io sono pronta per andare, non lo so, in montagna ho anche la pelliccetta bianca e dietro quindi sembra abbiamo un outfit sembra esatto che viviamo in due posti cioè completamente diversi tipo io e i tropici esatto oddio ti invidio se vivi i tropici invitami però va bene giustamente buongiorno io pensavo facesse caldo invece non fa caldo dopo metto un maglioncino dai oddio anche se facesse caldo anzi sei un po' vai un po' io non parlo io non dico niente però non è ancora primavera eh ma come non è ancora primavera non è primavera è il 20 21 21 oddio che figura lo so 21 21 dai manca pochissimo ma sì ormai è di primavera ormai è primavera con questa collana hai fatto primavera sì e dove stiamo andando dove stiamo andando diccelo tu da casa da casa che è un negozio è uno dei nostri ragazzi preferiti dove si trovano delle cose molto molto carine e io volevo prendere quelle tipo maison jar penso che si chiamino così ho scoperto il nome finalmente come sei colta io non so per me era per me era aspetta come è che le abbiamo chiamate prima di sapere il nome i barattolini i barattolini con il tappo con il tappo bucato bello che ce li ha anche là io sono stra carini i tuoi sono uno azzurro uno azzurrino e uno tipo giallino giallino ecco e li ho visti anche qua quindi oggi entriamo a prenderli però sai che mi ricordo al video di Gabri che alcuni hanno casa nel loro paese altri hanno Tiger ma non so se sono lo stesso franchising oppure no sono tutte diverse secondo me si 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 non c'entrano niente Tiger a Brescia ho visto che c'è a Cremona un giorno potremmo andare a Cremona a posto per andare da Tiger andiamo da Tiger perché tutto è lo Tiger vicino e non no c'è a Cremona c'è a Cremona c'è a Bergamo c'è a Milano c'è anche a Verona praticamente manca solo a Brescia andiamo dai va bene non so se sia più grande di casa più fornito non ne ho idea non ne ho idea non so ci sono mai stata comunque noi da casa sempre qualcosa troviamo di solito quindi non usciamo mai andiamo io vedo un cartello con scritto 30% si si mi piace un sacco guarda che belli che sono ma anche questi con i cuoricini questi colori qua tutti pastello che meraviglia beh a parte che qua dentro veramente potrei comprare tutto è come quando andiamo da Ikea esatto che comprare va in installazione che belle per le pappe giapponesi però le mettono anche bene hai visto? si sono bravi anche i tovaglioli sono bellissimi sono i puas esatto io e Vanessa siamo le fan dei puas cappuccino soprattutto cino mamma che buono sai che bello quando tipo si possono organizzare i party o tipo a tema no? con tutto tipo cupcake e tutte quelle cose bello 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 andiamo a spirizzare ancora Vanessa voleva uccidersi di prima mattina è tipo un'eleganza un'equilibrio scusa è il senso dell'orientamento? anche quello tutto ecco abbiamo trovato altri angolini carini guarda anche le frutte tutto anche questo che ci mette i cereali e poi giri si non funziona ecco perché io l'ho comprato e si incastravano sempre non mi piace più esatto e guarda con la pasta con i cuoricini no questo è da comprare si vedono i cuoricini si si ok abbiamo capito che i nostri portafogli ma guarda che belli guarda queste guarda queste sono troppo belli certo che creano di quelle cose ultimamente che meraviglia ma che meraviglia Vanessa è stata catturata da qualcos'altro però belli ci piacciono queste qua adesso scegliamo io andrei di questa si mi piace di più è carino che amiano sempre tornando al discorso basta basta io metto giusto basta basta eccoci siamo alla freccia rossa la freccia rossa come se tutti lo conoscesse in effetti si lo conosceranno solo con il chiamito in Brescia che è un centro commerciale qua a Brescia ci guardano che ci guardano malissimo no però ci siamo rifiutati di prendere il braccio quello ah quello basta non è per noi però secondo me guarda che è comodo è tutto il cino si no ti prego ma ne è è comodo e farà anche comodo ma io mi rifiuto di venire in giro con te io prima o poi lo prenderò l'ho visto anche rossa con il bottoncino e prima o poi si no prendiamo la scopa di casa con lo scotch lo attacchiamo e poi giriamo con la mano poi ti vengo vicino e posso fare finta di non conoscermi io lo faccio così è questa pazza non voglio via sciampare io intanto mi aggiorno su cosa succede nel mondo qui vi faccio vedere i negozi qua c'è e ce ne è ma che stiamo bellamente snobbando come mai come mai non è da noi ah perché abbiamo visto due cose da zda vogliamo andare a vedere se le troviamo fatta mica due paia di scarpe due scarpe non dovrei stai non mi servono proprio i nuovi sandali però sono troppo carini ma perché stiamo correndo ma anche se stiamo facendo una mano perché mi vergoglio come una ladra quindi le persone ci guardano però se noi andiamo via vediamo se riesco a farvi vedere le scarpe che dicevo sono queste due qua che tra l'altro non so se mi piacciono le più gialle oppure beige non ci sono in compenso ovviamente ne abbiamo trovato altre ho trovato queste perché è tutto giallo c'è l'inquadratura gialla vabbè comunque sono si questo muro sembra giallo vabbè comunque sono rosse e il muro è bianco questo è come quello del vestito se il vestito è è giallo o è blu e lì c'è Ilaria che sta provando dei sandaletti stracarini e ha preso anche lei le rosse che adesso provo e vediamo come sono vedete girati belle mi piacciono molto tutte e due mi piacciono sì anche a me tutti e due alla caviglia fanno un effetto perché a volte secondo me si pensa che tipo i lacci taglino la gamma invece secondo me dipende se messi il laccio e poi dal punto in cui hai messo perché se lo metti troppo basso va un effetto deve uscire così molto carina carino vero mi sa scazzumare sì molto belle mi piacciono sì no sono molto belle molto molto anche questo rosso come dicevi tu fa un bell'effetto bello Vanessa col carrello potresti salire su con i piedi e fare tipo come facevamo da bambine lo facevi tu da bambina però non c'è l'appoggio dei piedi dovresti appoggiarti con la pancia qua ma la pepe o giudia comunque stiamo andando a fare la stesa sii che bravi fai in giù vediamo se riesco a prenderci mamma come mi sento importante ma dovremmo far chiudere i pacchetti secondo me si adesso chiediamo noi invece di fare la spesa capite cosa facciamo vabbè dobbiamo prendere il formaggio dove vai? torna indietro no ma no ah no il latte dobbiamo prendere è impazzita prendiamo il latte vieni qua aspetta che metto in pausa qua che il latte non gli interessa la scelta del latte bisogna notare l'intruso dentro questo carrello ci sono due sacchetti sospetti chi è l'intruso? chi sarà mai l'intruso? guardate ho preso grazia e all'interno c'è la pubblicità di Lancome e poi c'è questo tagliandino che dice Lancome e parla dell'incontro che è giovedì 12 marzo alle 18 e guardate qua yeee ci sono anch'io perché non escono più? non escono più aspetta girando verso si sono incappati solo io per le nostre insalatine che prepariamo adesso con la feta i pomodori che non solo queste due ma sono quelle che slavando Ilaria Leoli si sembrava un pomodoro a testa se ne abbiamo paura di ingrossare quindi un pomodoro dieta super ristretta io che giro con un coltello tan 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 ma secondo te l'insalata è già lavata? con il coltello in mano me lo dici? no laviamola laviamola si si laviamo così sembra che tipo tu cucini e io filmo non è non è così Ilaria ma è successo comunque stiamo preparando il nostro pranzetto e io sto cucinando il mio aiuto è fondamentale Ilaria sta solamente aggiungendo le olive perché poi ho fatto tutto io vero? non ci mette le lettere? si diamo a Cesare quel che è di Cesare in realtà Vanessa sta lavorando sta lavorando per te per me perché sto facendo le foto per il tuo vlog si siccome volevo mettere una ricetta carina allora Vanessa mi aiuta e fa le foto che carina che brava amica allora giustamente io cucino mentre lei fotografa Ilaria rodella.com come prende le voci quelle dei medicinali alla fine di un video Ilaria rodella.com adesso manca la feta poi azzardiamo un po' di menta che secondo me ci sta bene e basta adesso vado il mio compito sono le uova vado a sgusciare sgusciare si dice si sgusciare sbucciare vado a togliere la parte dura dalle uova va bene ok no vai non si riesce a riprendere ma questo è quello che stiamo facendo esatto quando dicono che non si possono fare due cose insieme come fanno le persone normali noi siamo un po' tontonine per me ferma con il coltello solo non riesco ragazzi noi siamo sempre così giovanessa non è una novità ti aiuto eccoci mangiamo finalmente ragazzi vi porto nel backstage stiamo filmando c'è troppa acqua quindi allora guardate cosa fa cioè siccome c'è troppa acqua in questa videoricetta guardate cosa combina questa panciulla la beve voi queste cose fate finta di non averle perché se lo spostiamo poi è un casino con l'inquadratura esatto visto che stiamo registrando metti a fuoco come faccio a far sì che metta a fuoco perfetto meglio dai così cioè potete dire di aver assistito al backstage di un video di Magico Trucco è uscito il pancake un po' brutto ma buono dai no non ci sta ancora vai l'aria lancio del pancake aiuto ho paura che finisca qua dentro vai 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 senza paura yeeeh adesso però voglio fare il lancio del pancake vuole superarmi vediamo chi ha fatto meglio il lancio del pancake ma non vale io l'ho fatto per prima però siamo tutti curiosi di vedere il lancio del pancake di Magico Trucco si si stacca si stacca magico lancio del pancake ho paura senza paura ha vinto nooo ha vinto il lancio del pancake nooo cosa ho vinto? seconda chance e non vale che tagli e metti questa eh pronti per il lancio del pancake check numero 2 check 2 3 yeeeh la seconda ce la fa l'aria K.O. Vanessa poi i pancake mamma mamma che fame guarda che buoni brava abbiamo fatto i pancake la prima l'ho fatto doppio vai andiamo guardate cosa sto guardando ansia aiuto eccomi mi sono appena vista sulla 5 ed è stato stranissimo mi sono anche emozionata e niente adesso mangio poi vado a dormire quindi finisco questo vlog qua e niente vi mando un bacio